Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo deck profile molto particolare. Si tratterà di un mazzo ninja, spolesciuto con il rabbit, il coniglio da soccorso. Allora, è giusto una prima prova, giusto per vedere come funziona, come va. E' anche un modo per provare delle cuffie nuove che ho comprato per registrare, sperando che l'audio si senta, diciamo, discretamente, anche se di solito non tendo ad urlare, a parlare troppo ad alta voce, però, da quel che ho visto, insomma, le cuffie che avevo prima creavano un po' di problemi, visto che quando sospiravo oppure soffiavo si sentiva un rumore tremendo. Abbiamo a che fare, mi sa, con un inferniti, un inferniti però molto particolare, devo dire. Mi aspettavo... mi aspettavo di meglio. E come possiamo vedere, il mazzo sembra agire abbastanza bene, possiamo evocare normalmente il coniglio da soccorso e attivare immediatamente il suo effetto. A questo punto possiamo evocare due mostri normali, insomma, dal nostro deck. Ed ecco qui. Utilizzeremo le Dark Blade, che sono un ottimo mezzo, insomma. Dopodiché utilizzeremo l'effetto di Laval Valcene, se non sbaglio. Ah no, dobbiamo scegliere per forza una carta mostro, quindi suppongo che l'idea migliore possa avvenire tramite lo Steel Swarm Roach, che ci permetterà di negare eventuali evocazioni speciali complottate dal nostro avversario. Da qui, la Steel Swarm Roach. Ora possiamo attivare Double Summon, ed evocare specialmente un'ulteriore volta. Stavolta si tratterà di Ninja Grandmaster Anzo. Funzionano abbastanza bene i ninja e il coniglio di soccorso insieme, e devo dire che ne sono rimasto piacevolmente colpito. Ora prenderò in mano l'arte ninja della trasformazione. Oddio. Cerchiamo di non rincorci adesso. Allora, settiamo anche il tifone. A questo punto entriamo in fase di battaglia. E andiamo. Eventualmente se all'avversario venisse la malsane idea di evocare specialmente mostri di livello 5 o superiore, saremo in grado di bloccarli tramite lo Scarafaggio Brancacciaio. Ora sto cercando, in verità, un altro trissi, insomma, di mostri normali da mettere all'interno del mazzo, ma le Dark Blade mi sono sembrate le migliori, soprattutto per la loro considerevole potenza sia in attacco che in difesa, insomma. Ovviamente dovranno essere mostri di tuo guerriero, perché nell'eventualità in cui ci capiterà un ATK, potremmo anche utilizzare Excalibur e, insomma, il Blade Armor Ninja. Che non sono una cattiva idea. Vediamo cosa riusciamo a fare per il momento e... Riusciamo. Ecco, non ho attivato la carta trappola necessaria, sono stato veramente sciocco in questa circunanza. Avrei potuto evitare che l'avversario potesse settare, ma non fa niente. Evochiamo Dark Seamorg in posizione d'attacco e impediremo il nostro avversario di settare delle carte. La situazione non è delle migliori, davvero, per il nostro avversario. Evochiamo normalmente Ninja Master di Fiamme. No, non mi sembra il caso di utilizzarla, ma si faccia lo stesso. Diventa di livello 5, così per sfizio. Ok, non è stata una cosa molto saggio da fare, perché in effetti ora non lo exizzo più. Ma va bene così, non fa niente. Stiamo aspettando, insomma, il nostro avversario. E andiamo ad attaccare. Attacchiamo con Seamorg. Paura di un Raiko o qualcosa del genere, perché sinceramente me lo aspetto molto. Noi invece si tratta di un Comandante Stigen. Andiamo ad attaccare. Un Infernity che riesce a rimanere con parecchie carte in mano, nonostante tutto. E se riusciamo a impedirgli di settare, insomma, grazie a Dark Seamorg siamo anche abbastanza avvantaggiati. Non può evocare specialmente mostri di livello 5 superiore, non può settare per effetto di Seamorg. Quindi, buona, buona, molto buona come cosa. Ci sta andando tutto abbastanza bene oggi, mi sembra davvero strano. Magari forse andrà storto perché le cuffie non si sentiranno nulla, però vabbè, pazienza. Forse sentirete un po' di rumore, sto cercando di spostarle in modo da tenerle vicino alla bocca. Però, sembra andare abbastanza bene per il momento. Mi posso ritenere abbastanza soddisfatto di me stesso, insomma. E l'avversario a questo punto si arrende e questa parte la chiameremo Ninja Rabbit. Ecco. First attempt. Ovvero, prima tentativo Ninja Rabbit. Eccoci qua tornati. Allora ragazzi, io prima di tutto vi prometto che questo mazzo l'ho fatto molto a caso. Penso di essere stato semplicemente fortunato che la strategia abbia girato come si deve. Le carte le ho messe, ve lo giuro, veramente a casaccio. E non so. Non so perché l'idea sembra buona, il coniglio da soccorso si sposa molto bene insieme ai Ninja, come avete potuto vedere se riusciamo ad utilizzare il Double Summon. E ad esempio se inserissimo anche l'ultima offerta, ora che mi viene in mente, insomma. Potremmo realizzare delle belle combo, potremmo fare delle belle cose. Ma, prima di tutto, fatemi sapere, secondo voi, come questo mazzo dovrebbe essere modificato, perché i suggerimenti sono sempre ben accetti. Magari anche giocatori molto più esperti di me. Lo so, molti si arrabbieranno probabilmente nel vedere che gioco sempre 42 carte, ma ci sono sempre quelle due carte in più, insomma, che io voglio mettere, che mi danno la sicurezza, per esempio, dover rinunciare a dei richiami del posseduto, oppure, insomma, alla duplicazione. Non mi sembra il caso, insomma, perché sono comunque delle carte buone che, in più di un'occasione, mi hanno salvato e mi hanno potuto aiutare. Quindi, cominciamo con le tre Dark Blade, che sono ottimi mostri, 1800 punti di attacco, 1500 in difesa. Sono ottime, se non sbaglio dovrebbero essere anche abbastanza facili da trovare. Abbiamo due Ninja Drago Bianco, due Dark Simorg, che scendo da Tin, se ricordiamo bene, non è più in secret, quindi è una super cache da Tin, quindi facilmente trovabile, con il Tin di Granma Stranzo, queste anche sono molto facili da trovare, comuni varie di Ordine del Caos, insomma, come potete vedere, Ninja Armatura di Fiamma, Ninja Mascherato Ibisu, Triple Upstart, e due Conigli da Soccorso. Ora, mi sembra un po' assurdo, poi, utilizzare due Rabbit e solo tre Target, insomma, ce ne vorrebbero almeno sei, però, ragazzi, davvero non lo so, perché nel momento in cui, tipo, la Dark Blade ci esce in mano, insomma, e noi abbiamo, se ne lasciassimo solo due, insomma, e la Dark Blade ci esce in mano, e il Rabbit lo evochiamo, non possiamo chiamare niente dal deck, insomma. Ed è comunque un Xyz Rango 4, insomma, fatto a gratis con una sola evocazione, e come avete visto prima, frutta molto questa strategia, se riusciamo a sfruttarla bene. Abbiamo poi le solite stabili, la Tempesta Potente, i due Tifoni, qui, tripla, doppia evocazione, perché ci servirà molto, buco nero, mostro resuscitato, doppio torrenziale per fare piazza pulita di quei deck che sguormano, insomma, zona sicura, per far partire, insomma, il lock Ninja Drago Bianco, o zona sicura, se ci riusciamo. Dubblicazione, nel momento in cui, per esempio, eh, ora vi spiego perché ho messo Ninja Drago Bianco, in pratica, evocando Ninja Drago Bianco, saremo in grado, quindi, di poi evocare, per esempio, Ninja Armatura di Fiamma, lo facciamo arrivare al livello 8. Utilizzando, poi, per esempio, la duplicazione, per evitare, per esempio, che Ninja Drago Bianco sia rimosso, insomma, distrutto, in qualche modo, non avendo safe zone addosso, saremo in grado di evocare due mostri Ninja di livello 4, perché il livello del Ninja, di Ninja Drago Bianco, diventerà 8. Quindi questa strategia ci sarà abbastanza utile, insomma, per evocare due mostri di tipo guerriero, Ninja immediatamente, quindi, il che frutterà Ninja Armatura di Lame, Farfallo Operativo, eccetera, eccetera. Tripla arte Ninjitsu della trasformazione, motivazione ovvia, il 2 torrenziali, poi, per esempio, potreste anche pensare che se abbiamo Ninja Drago Bianco a terra con safe zone, potrebbe diventare inutile il doppio torrenziale, invece no, grazie al Ninja Dorato a rivista saremo in grado di scartare le trappole inutili dalla mano e di evocare i mostri Ninja dal deck. Come vedete, ne giochiamo 8, se non sbaglio. Sì, lo so, sono molto pochi, non è da me giocare così pochi i mostri Ninja, però purtroppo mostri Ninja normali non esistono, quindi ci ho provato a cercarli, ma il meglio che ho trovato è stato questo, ma non ha, insomma, eh, maledizione. il Nin Ken Dock, non so se lo conoscete, se riuscissi, no, oggi mi trolla, mi trolla, ah, eccolo qui, eccolo qui, Nin Ken Dock, purtroppo non è un mostro di tipo guerriero bestia, purtroppo non è molto utile, insomma, per la nostra strategia, attualmente ci servono i guerrieri e la Dark Blade mi è sembrata la migliore, anche perché in vi dico la verità, provando un po', avevo un rabbit preso da Tin così spaiato e due Dark Blade, ho detto perché no, non provare, perché non provare a splashare i ninja con il rabbit, e mi è sembrata un'idea davvero, davvero ottima e sembra lavorare abbastanza bene. Comunque, tornando qui, abbiamo visto anche i due richiami del posseduto per richiamare eventualmente Simorg soprattutto, poiché non appena l'avversario vedrà che non potrà settare un tifone lo buttere immediatamente sulla trasformazione per eliminare Simorg. Se saremo abbastanza fortunati, insomma, proprio a non avere la sfortuna di beccare l'astorno, potremmo richiamarlo immediatamente ed evitare che l'avversario setti. E gli abbiamo anche fatto buttare un tifone in più. I ranghi 4 soprattutto vi consiglio un'ingermatura di lame e un farfallo operativo, Black Ship of Corn che purtroppo nel nostro paese ancora non è arrivata, insomma, è soltanto tipo Jump o in edizione speciale o qualcosa in America, quindi non è giocabile qui, Excalibur. Vi consiglio tantissimo Steel Swarm Roach ragazzi, perché è qualcosa di fantastico. L'ho messo davanti ai Chaos Dragon, all'Infernity, come avete visto prima, e ad altri tipi di deck che si basano sulle evocazioni speciali. Anche a Mermail siamo riusciti a bloccare la loro strategia in un niente proprio, ragazzi, davvero. Lo Steel Swarm Roach in questo meta sarà utilissimo, perché l'avversario si baserà prima di tutto sul mettere dei mostri con attacco molto elevato e con un alto numero di stelle. Però saranno mostri diciamo non Xyz e non Sincro, insomma, saranno mostri con effetti, insomma, tipo pensate ad Abismegal o al Distruttore della Profezia, eccetera, eccetera. Basterà staccare un materiale da roccia e lo potremo distruggere senza alcun problema. Vi consiglio di giocarne anche più di uno di questo se proprio volete. Maestro che è sempre utile e insomma, gli altri sono più una scelta mia personale, l'Utopia, lo Shockmaster che non lo scenderemo mai perché useremo soltanto i rank 4, i rank 4, però questo è più o meno un abbosso del Ninja Rabbit che vi volevo far vedere come l'ho realizzato attualmente e fatemi sapere soprattutto voi, insomma, giocatori più esperti che sicuramente ne saprete più di me insomma, che sono possiamo dire per quanto riguarda Yu-Gi-Oh! un casual gamer cioè solo cioè se mi trovo insomma a giocare e insomma cerco di fare il possibile per inventare qualche strategia più sfiziosa. Sinceramente ho visto già altre volte il Ninja Rabbit avevo provato a vedere una lista su internet ma sinceramente considerare Ninja Rabbit un mazzo con tre anzo e un ninja drago bianco e tipo due o tre trappole ninjitsu non mi sembra molto un ninja mi sembra più un dino rabbit splashato con ninja quindi non è molto bello invece il Ninja Rabbit utilizzato così devo dire che mi piace abbastanza se riuscissimo a trovare quindi una una certa sincronia tra i vari i vari mostri le varie magie le varie trappole insomma potremmo fare potremmo fare molto bene con questo deck quindi ricordatevi di lasciare un commento e fatemi sapere insomma cosa ne pensate di questo deck anche se potrete dire anche fa schifo odio non mi piace insomma ogni opinione ogni opinione è buona e ognuno ha la propria opinione quindi quindi ragazzi fatemi sapere e datemi anche dei suggerimenti se avete in mente qualcosa per far funzionare meglio il deck non aspetto altro che altro dovevo dire ah non dimenticate quindi di iscrivervi di mettere mi piace se il video vi è piaciuto e ovviamente lasciate un suggerimento ci vediamo alla prossima ciao a tutti